Si chiama Raymond Moreland, è un uomo di Newport in Galvez nel Regno Unito e pensate che sarebbe stato sommerso dai debiti. In buona sostanza doveva pagare un sacco di soldi a determinate persone che gli avrebbero prestato del denaro. Ed ecco che avrebbe quindi deciso di andare a coltivare la marijuana in casa dell'amata figlia. Una scelta questa che però gli sarebbe valsa una condanna a livello penale. L'uomo vi ricordo che ha 55 anni d'età, è il padre di una donna di 32 e un nonno di ben 4 bimbi. Sarebbe finito in disgrazia per alcuni debiti e contratti nei passati anni. E così avrebbe coltivato e venduto marijuana, la Maria, per dirlo in maniera breve e concisa, per farsi disbarcare l'orario. L'uomo avrebbe pensato ad un posto insospettabile, non la sua capitazione ovviamente, ma quella dell'amata figlia. Ed ecco che sarebbe stato scoperto e sarebbe stato condannato ad una condanna penale, ripeto, nuovamente. Vi ringrazio per l'ascolto, questo dunque sarebbe quanto, iscrivetevi, commentate, al prossimo video da un narratore italiano.